Ora c'è anche il sì del Consiglio Comunale di Cagliari per il nuovo stadio che sorgerà nel quartiere Sant'Elia e che sarà intitolato a Gigi Riva. L'Assemblea di Palazzo Baccaredda ha infatti approvato all'unanimità la delibera sull'accordo di programma firmato la scorsa settimana dalla Giunta regionale, sbloccando definitivamente, dopo mesi di attese e polemiche, i 50 milioni stanziati dalla Regione necessari per la realizzazione della nuova Casa del Rosso Blu. Non è ancora finita, ha affermato in aula il Sindaco Paolo Truzzo, ma è un momento importante di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. Ora si attende il via libera del Power della Regione e poi l'approvazione del piano economico finanziario. Dopodiché si procederà con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del nuovo impianto da 25.200 posti, con possibilità di ampliare a quota 30.000 per poter ospitare i campionati europei del 2032. Non solo calcio, l'area intorno a cui sorgerà lo stadio Gigi Riva dovrà trasformarsi, nelle intenzioni di Truzzo, in un grande parco sportivo e culturale da vivere 365 giorni l'anno. Grazie. 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 Grazie.